Cari amici e amiche, ciao a tutti. Se avete visto il mio precedente video sulla devozione allo Spirito Santo, ho in mente da oggi di iniziare un percorso con voi per conoscere meglio lo Spirito Santo, ossia la terza persona della Santissima Trinità. La cosa quindi, la prima cosa che dobbiamo chiederci è questa, chi è lo Spirito Santo? Diciamo chi è e non cosa è perché lui è una persona e quindi ci poniamo questa domanda chi è lo Spirito Santo? Per rispondere leggiamo due passi tratti dagli scritti della Beata Elena Guerra la cosiddetta Apostola dello Spirito Santo che dice Lo Spirito Santo è l'amore che ha il padre per il figlio e il figlio per il padre Infatti il padre da tutta l'eternità contempla se stesso e così genera il figlio Padre e figlio da tutta l'eternità scambievolmente si amano e così producono lo Spirito Santo che è il loro sostanziale amore Poi, in un altro passo, aggiunge Lo Spirito Santo non è già un profeta Non è un santo né un angelo ma è il maestro dei profeti Il santo dei santi, il signore degli angeli Dio d'ogni potenza e maestà Una delle persone della Trinità adorabile Procedente dal padre e dal figlio E' uguale al padre e al figlio in natura e potenza Cui è dovuta ogni gloria e onore E che fin dal principio dei tempi era invisibilmente nel mondo come creatore e conservatore Molto bene Questo video desidero proprio che sia brevissimo Perché ho deciso così L'unica cosa che vi volevo dire è questa Ora che abbiamo, metterò anche un approfondimento nella descrizione tratta dal sito degli Amici Domenicani Vi volevo proprio consigliare questo Lo Spirito Santo, essendo una persona Anche se è puro spirito, anche se è invisibile Dimora dentro di noi Quando siamo in grazia di Dio Perché noi siamo il tempio, il nostro corpo è il tempio Dello Spirito Santo Quindi vi invito ad avere un rapporto di amicizia con Lui Parlateci Parlate con lo Spirito Santo Confidatevi con lo Spirito Santo Affidategli davvero tutto Tutta la vostra vita, le vostre difficoltà Le vostre debolezze, i vostri peccati Davvero Lui è il migliore amico Che davvero possiamo avere Il Signore Gesù ce l'ha promesso Ha promesso che sarebbe stato inviato all'umanità Allo Spirito Santo Che è stato inviato nel momento della Pentecost Quindi davvero sfruttiamo questa amicizia con Lui E davvero Lui sarà capace di portarci a livelli di santità Veramente eccezionali Ora concludiamo con una preghiera appunto allo Spirito Santo Come siamo abituati a fare Vieni Santo Spirito Manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce Vieni Padre dei poveri Vieni Dattore dei doni Vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto Ospite dolce dell'anima Dolcissimo sollievo Nella fatica riposo Nella calura riparo Nel pianto conforto O Luce Beatissima Invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli Senza la Tua forza nulla è nell'uomo Nulla senza colpa Lava ciò che è sordido Bagna ciò che è arido Sana ciò che è sanguina Piega ciò che è rigido Scalda ciò che è gelido Drizza ciò che è sviato Dona i Tuoi fedeli Che solo in Te confidano i Tuoi santi doni Dona virtù e premio Dona morte santa Dona gioia eterna Amen Benissimo Ci salutiamo Vi ringrazio insomma Della visualizzazione dei video Vi chiedo davvero di pregare per me Lo Spirito Santo Io vi prometto di pregare per tutte le persone Che hanno visualizzato per ora i miei video Fino a ora i miei video E che li visualizzeranno in futuro Poi se volete potete iscrivervi al mio canale O seguirmi sui social Ciao a tutti